Io si definisco immagine umiliante o video umiliante, ma sarebbe una ripetizione, dai, va là, dico immagini umilianti, anche questo può essere considerato, io lo dico ai novelli youtuber, eh, anche questo può essere considerato un contenuto alterato, quindi occhio anche ai titoli, mi raccomando, e non siano, non dico gli stessi, ma che non abbiano sempre le stesse parole, perché le visori controllano anche questo, mi raccomando, eh, mi raccomando, io ne so qualcosa, non c'è più la libertà che c'era prima, va là, Adesso bisogna stare molto, molto attenti, però qua l'attenzione viene meno, già bisogna, dai, su, allora ragazzi, sinistroidi, con rispetto parlando, chiaramente, non accusatemi, non ditemi male, non sono promeloni, non sono tendente alla destra, al centrodestra, io sono tendente sia a sinistra che a destra, da centrista, quale sono? No, però non si può votare Mopi 10 e 5 stelle, non si può, non ti danno garanzia avanti, cioè, sparano solo fango, dai, a bestia a voi, eh, perché la meloni no? Sì, anche lei, chiaro, però almeno ti sta portando qualche cosa, cioè, un po' più credibilità, soprattutto in tutto il mondo, noi invece siamo ancora molto più, molto, non più provinciali, siamo molto provinciali, ma anche qui lo siete? No, credo di no, in arte sia per i 100.000 iscritti, attivate qua sotto la campanella per ogni aggiornamento, di cuore, grazie a ogni uno di voi, ecco, vi pareva, comunque, rimagini, sono i seguenti, addirittura si lascia scappare, lasciare un Conte, che comunque, sono parlati, però hanno fatto la loro propaganda a distanza, anche tra di loro, contro di loro, l'uno contro l'altro, l'una contro l'altro, anche Bonelli, questa non è, Campolargo non esiste, Formigli, in serata, ieri sera, va là, non è Campolargo, non esiste, Conte, e ti sei levato a Correzzi, eh, niente da fare, noi CDA ce l'abbiamo un uomo, è più di uno, tu invece, Correzzi, via, eh, brava, no, tu sei incoerente, poi, dietro le telecamere, trafili corrette, qualcuno li prende col cellulare, qualche bravo giornalista, ma che figura mi fai fare? Luciano e Conte, che figura mi fai fare? Poi, sorrisetto di Conte, pacca sulla spalla, ma che figure mi fai fare? Giuseppe, ma che figure mi stai facendo fare? Ragazzi, vediamoci chiaramente, Capolargo non è mai esistito, c'era una base di partenza, solo un nome, ma di fatto non c'è, e se dovesse arrivare un giorno, credo che dovranno cambiare, praticamente, i protagonisti. Poi, io non so se davvero, come dice quello della sera, Conte si sta alleando con la Meloni, vuole portare il momento 5 stena a cambiare il nome, al centro-destra, ma là, ma non ci siamo affatto, NCS, non ci siamo, ditemi la vostra nei commenti.